Ciao a tutti e benvenuti! Mi presento il calendario dell'avvento! Eccolo qua! Vedete? E guarda dietro! C'è il disegno da colorare! Qua ci sanno i numeretti che una fide schiena vuol dire che non è natale! Se apriamo tutte le finestrelle vuol dire che è natale! Volete vederle? Abbiamo il numero uno! Guardate qua! Questa è la stellina di Natale! Ora facciamo il numero due! Vediamo che esce! Guardate qua! Una capellella piccola! Guardate qua! Una capellella piccola! Guardate qua! Grazie a tutti! Buon auguri! Buon Natale! Allora dicci... E al prossimo video! Ciao! Facete la bello di Natale! Alla prossima! Fate! No facete! Fate la bello di Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti!